Buona domenica 20 novembre. Spesso ho ricordato come nulla sia un granché, ripetendo la frase di Vladimir Udoni, ma con una intenzione certo deprimente, ma un invito ad abbandonare una grandiosità intorno alla quale poi si costruisce gran parte della nostra sofferenza, disagio spirituale, mentale. Siccome aspiriamo alla grandiosità, siamo indisponibili a cogliere la vita per quello che è e che non dipende da noi. Spesso rappresentiamo il fenomeno dell'intossicazione ripetuta relativamente all'uso di bevande alcoliche o di altre sostanze psicoattive che chiamiamo droghe, immaginando che queste sostanze abbiano la capacità di sottometterci, di renderci schiavi, la dipendenza, l'addiction. In realtà, a mio parere, la questione è molto diversa e di altra mente opposta non è la sostanza che fa la dipendenza. Il cuore del problema è questo nostro desiderio insano di immaginare che tutto possa dipendere da noi, compreso il fenomeno, l'esperienza, della gratificazione, del piacere. Dipende solo da noi e noi siamo gli artefici di questo piacere. Non attraverso un processo di necessaria mediazione nella quale dobbiamo in gran parte abbandonare le nostre aspirazioni perché incontriamo l'altro con la sua radicale diversità di desideri. Pensate alla relazione sessuale nella quale la coppia deve trovare una armonia e abbandonare l'idea che tutto dipende da me. Mi devo lasciare andare a una interconnessione che in qualche modo svuota l'idea del controllo della situazione. Ci permette di liberarci da questo insano bisogno di dominare la scena, di colpevolizzare l'altro o di autocolpevolizzarci perché non siamo stati capaci di sedurre sufficientemente, perché il tempo è trascorso, la noia, l'abitudine. Hanno preso con pienezza il dominio sulla scena, i corpi invecchiano, le aspettative vengono costantemente tradite prima ancora che avvenga quel passaggio oltre che si chiama tradimento. E tutto questo perché non riusciamo a immaginare una vita serena, vera e autentica all'insegna di quello che ieri ho ricordato, anzi sì ieri ho ricordato leggendo il Tao Te Ching, il non agire, agendo serenamente impotenti. Ecco il cuore della sofferenza mentale è proprio in questo criterio interpretativo che pone un egocentrismo crescente al centro dell'esistenza. quella centralità di un ego il quale rimane costantemente insoddisfatto, che cerca di andare sopra le righe, che usa strumenti sempre più raffinati e sofisticati per dimostrare a se stesso che può far sì che tutto dipenda da lui. Allora che differenza c'è tra il grottesco tentativo dell'alcolista, del tossicodipendente, di controllare la situazione, di trasformarsi in un consumatore controllato, abile, intelligente, capace. E quanti invece, in nome della malinterpretata pensano di aver raggiunto l'equilibrio relativamente a questi momenti di gratificazione, mi riferisco in particolare a quelli che insistono nell'immaginare di essere dei consumatori sociali moderati di bevande alcoliche che emblematicamente rappresentano. Questa modalità interpretativa della vita l'insegna di una grandiosità, riferita nella fattispecie al controllo di una sostanza che non riconoscono come qualcosa di rischioso e pericoloso, se non per quanto si riferisce a quelli che sono stati identificati come alcolisti, i quali giustamente vengono allontanati dalla disponibilità delle bevande alcoliche. Si cerca, e anche questo giustamente, di poter usufruire, almeno per un certo periodo di tempo di una barriera chimica avversivante, che in qualche modo contenga quella dipendenza, che viene meccanicamente rappresentata molto probabilmente anche da una modalità interpretativa biologica. La persona è resa schiava. Non si immagina che in realtà quella persona sta solo interpretando in sommo grado l'essenza stessa della nostra esistenza, che appunto immaginiamo che tutto dipenda da noi e naturalmente più cerchiamo la grandiosità, più siamo destinati a confrontarci. con comportamenti, condotte, stili, posture mentali, all'insegna della realizzazione di questo modo, di interpretare la vita nelle relazioni, nel rapporto con l'ambiente. L'ambiente dipende da noi. Riusciamo a raccontarci anche le storielline, ultimamente, che questo cambiamento climatico, in fondo, sì, è il nostro prodotto. Abbiamo messo mano all'equilibrio di questa nostra madre terra, offrendola profondamente, ma attenzione. Siamo in pieno autunno e le temperature non sono così rigide come ci si poteva aspettare relativamente alla stagione. Il clima è ancora gradevole. Possiamo anche permetterci di non accendere i termosifoni e, lo ricordava Donald Trump nei suoi deliri di onnipotenza. Naturalmente, criticando quanti sollevavano il problema del disastro climatico. Poi, in fondo, diceva, possiamo forse garantirci, però per la nostra, una gradevole primavera anziché il rigido inverno. Poco conta se i ghiacciai si sciolgono, se le foreste vengono abbattute. Questa opera umana, alla fine, porterà bene ricchezza. Ecco, questo è il grande tema che contrappone il nulla è un granché come invito ad abbandonare questa idea folle che tutto dipende da noi. Dobbiamo in primis porre attenzione alla nostra coscienza. Lì è la centralità di un sistema di cura che sia molto attento alle premesse, alla visione attraverso la quale noi interpretiamo la nostra esistenza su questa terra. Una visione che dovrebbe essere in grado di liberarci definitivamente da questo egocentrismo costantemente tentato dal concretizzare il delirio di onnipotenza. Questa nostra condizione umana è evidentemente fragile. Anche quando facciamo atti di prevenzione lo facciamo alla luce del fatto che crediamo che tutto dipenda da noi. Facciamo di tutto per garantirci una vita giustamente salubre, un godimento assolutamente grandioso. E ci dimentichiamo che gran parte di ciò che accade non dipende da noi e quindi siamo invitati a una sobria prudenza, a una perseveranza nel discernimento, nella ponderazione, nell'attenzione, ricostruendo i sentieri verso il piacere e verso la liberazione dell'angoscia di morte, tramite questa disposizione d'animo, percorrere la strada della vita con una disposizione d'animo che nulla è un granché. E questo svela tutta la nostra fragilità, questo invito a interpretare la vita non come una celebrazione delle magnificenze umane, che poi creano anche meccanismi esclusivi, perché quanti arrancano? Pensate alla scuola, chi fa più fatica? Noi abbiamo immaginato una scuola democratica, possibilmente non selettiva, eppure la scuola, l'ho ricordato anche in questi giorni, cerca i meritevoli e i geniali per esprimere il massimo della propria efficienza, anziché far sì che coloro che arrancano siano un molito nei confronti di quanti cellono, per far sì che quella eccellenza, appunto, riesca a determinare una rappresentazione dell'esistenza all'insegna del nulla è un granché, non celebrazioni dei migliori ed esclusione dei peggiori, ma accoglienza di tutti, sulla base di questo non essere un granché, che poi è quello che viene messo in campo dagli alcolisti, dai tossicodipendenti, dai matti, dai folli, da quelli che fanno fatica, ma che a loro volta non sono estraniati e immuni rispetto a questo lirio di onipotenza. Non ci sono dei devianti esemplari che non alberghino in sé la stessa modalità interpretativa dell'esistenza, di coloro i quali al massimo della normalità rappresentano i riusciti, i potenti della terra, tutto c'è a comune e questo spinge inevitabilmente a ricostruire la nostra esistenza su una base diversa di costruzione delle relazioni. Una relazione affettiva, sensoriale, sessuale, all'insegna del nulla è un granché, significa armonizzare, lasciar essere senza immaginare che qualcosa dipenda da noi in maniera assoluta. Nulla dipende da noi, perché nulla è un granché. C'è una nostra responsabilità, nel senso che ciò che noi mettiamo in campo è questa coltivazione della prudenza e della moderazione, che facciamo molta fatica a immaginare perché le spinte culturali vanno in senso esattamente contrario. Pensate all'inserimento dei disabili in un contesto scolastico, perché non siano esclusi, in realtà poi alla fine vivono in un contesto selettivo e meritocratico, vivono un'esperienza tragica dell'esclusione. Dobbiamo radicalmente riformare tutto questo. Sono tanti i campi e gli argomenti che ci invitano a interpretare questo nulla è un granché, che non è foriero di depressione, anzi tutt'altro. È l'antitesi rispetto alle posture depressive psicotiche, paranoiche, piene di paura, angosciate, dalla paura di perdere e di non riuscirci, invece di vivere serenamente, impotenti. Allora oggi voglio leggervi quello che propone la liturgia cattolica. ieri era un testo sapienziale di un'altra prospettiva spirituale, Tao Te Ching. E quello che voglio sottolineare è che oggi è la festa di nostro Signore Gesù Cristo, re dell'universo. Allora immaginiamo come noi costruiamo l'essenza dell'essere re, la potenza. Molto spesso e sempre più la politica immagina un leader potente, un po' ciarlatano, perché ha imparato bene a formulare dei discorsi convincenti e soprattutto cinico, forte. Ma questa regalità che oggi Chiesa Cattolica ci propone è di ben altra natura. Vi leggo il testo dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere, il popolo sta a vedere. Gesù è crocifisso, l'avevano seguito fino a qualche giorno prima, pendevano dalle sue labbra. O forse, molto probabilmente, si aspettavano che avrebbe generato un regno di grandiosità, in cui tutti sarebbero stati salvati, sarebbero diventati ricchi, liberi. E la regalità però si esprime attraverso la crocifissione. I capi, invece, deridevano Gesù, dicendo, ecco, i capi sono rassicurati, coloro i quali sono aspiranti, leader, tiranni, anche democraticamente eletti. Temevano quel messaggio, che non è di debolezza, ma è di forza, nel lasciarsi andare all'essenza della vita, riconoscere la nostra impotenza e a volte anche chiedere che ci sia concesso il perdono per i nostri peccati di onnipotenza. I capi deridevano. Ha salvato altri? Salvi se stesso. Se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Se lui è il figlio di Dio, il massimo della potenza, perché non si salva? Perché non esprime tutta la sua potenza? Pensate alla logica della guerra. In scena va il tragico dell'onipotenza, l'orrore dell'onipotenza. Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano, se tu sei re dei giudei, salva te stesso. Fatti onnipotenza, manifesta in qualche modo, questo tuo potere. sopra di lui c'era anche una scritta, costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. Il malfattore è il buono e il cattivo ladrone. Sono due malfattori. probabilmente degli omicidi, come ci raccontano gli altri Vangeli. Anche lui il deviante di turno. Lo insulta. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo, non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse, Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ricordati. Fai memoria. La salvezza passa attraverso questa modalità. Incontra lo sguardo di Gesù. Ecco, questo è il punto fondamentale della lettura che oggi facciamo di questo nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. non è espressione di un potentato mondano. Come molto integralismo immagine possa essere. Vado al potere, faccio le leggi, a mia immagine e somiglianza, e penso che rappresenta appunto nostro Signore Re dell'universo. Ma quale universo? Quello tuo. Gli rispose, in verità io ti dico oggi con me sarai nel paradiso. La postura di Gesù è la rappresentazione perfetta dell'agire, dell'agire, non agire, agendo serenamente impotente. Gesù è sottoposto ancora una volta alle tentazioni che Enzo Bianchi nel suo commento identifica nella tentazione del mondo religioso, il quale vuole la testimonianza della potenza che non coltiva l'umiltà dell'impotenza. Il popolo, i suoi capi, i suoi soldati, quel popolo che continua ad aspettare il salvatore. Guardate che questo accade sempre nella politica. Speriamo che arrivi il leader, investiamo su quel leader anche se non condivido le sue idee. Speriamo che faccia qualcosa di buono. Affidiamo attraverso il nostro voto le sorti dell'umanità a una singola persona che eleggiamo a re. In fondo, la tirannia è una vocazione inconscia di gran parte dell'umanità perché appunto non sappiamo interpretare correttamente questo non agire agendo serenamente impotenti. forse vi farà un po' sorridere tutto questo. Poi la terza tentazione è rappresentata appunto dai malfattori che oggi chiameremo i devianti i quali a loro volta contengono in sé una contraddizione enorme che aspira anche attraverso le malefatte alla liberazione della potenzialità della grandiosità i malfattori aspirano alla ricchezza quanto lo fanno gli abili giocatori di borsa quanto facciamo tutti noi quando ci mettiamo all'opera cerchiamo gratificazione riconoscimento non siamo capaci semplicemente di lasciarci andare alla consapevolezza che non dipende da noi il nostro essere dipendenti è semplicemente espressione di una nostra abitudine a immaginare che tutto dipenda da noi la dipendenza sta tutto in questo dipendere che noi interpretiamo come qualcosa di passivo in realtà è qualcosa di profondamente attivo e in fondo l'esplosione epidemiologica degli stati di dipendenza ludopatie tossicodipendenza alcolismo egocentrismo che è alla base della sofferenza mentale anche della malattia mentale che indubbiamente poi ha delle modalità espressive biologiche ebbene tutto questo nasce dal fatto che abbiamo un'idea bislacca dell'esistenza quello che tutto dipenda da noi e non siamo capaci di immaginare che la vera strada verso una crescita maturazione ecologica è quella all'insegna della impotenza di quella regalità che si dispone di fronte ai deliri di onnipotenza con quella postura che Gesù manifesta nella croce non parla dice poche parole padre perdona loro perché non sanno quello che fanno non giudica accoglie è un'azione concreta che si esprime nel non agire non cade nella trappola della tentazione quella che fu l'incipit del suo cammino di diffusione del messaggio di salvezza la tentazione nel deserto nel quale il demonio lo mette alla prova attraverso le infinite rappresentazioni del possedere il possedere nasce proprio da questo insano desiderio di essere onnipotenti il demonio gli offre l'opportunità della potenza ma Gesù lo manda via rincontra nell'ora suprema ed estrema in queste tentazioni dei capi religiosi del popolo della politica del tempo anche della devianza tutti sollecitano all'onnipotenza e credo che chi ha il compito di prendersi cura di tutto questo perché ha deciso in qualche maniera di farlo e non perché dipende da lui perché ha posto attenzione all'etica alla responsabilità al dovuto nei confronti del prossimo indipendentemente dalla propria volontà l'etica trascende la volontà ti lascia andare a un dovuto nei confronti dell'altro e quindi la giornata di oggi sia l'insegna di questo agire non agendo serenamente impotenti con una postura esistenziale caratterizzata da grande sobrietà da ponderazione discernimento umiltà questo non significa non vivere nella gioia nella bellezza tutt'altro credo che la serenità che possiamo trovare nell'agire serenamente impotenti non agendo che significa semplicemente non porre mano a ciò che ci circonda con desiderio di forgiare l'altro a nostra immagine e somiglianza perdiamo tanto di quel tempo intorno a questo sia che si tratti di relazioni affettive sia che si tratti anche dell'esercizio di una funzione professionale finalizzata alla cura dobbiamo veramente tornare alle radici della nostra visione coltivare la visione ecologico sociale antropo spirituale proprio alla luce anche di questo insegnamento che risale a duemila anni fa e questo non significa aderire necessariamente a una fede religiosa è un discorso aperto per credenti e non credenti cerchiamo di interpretare in termini antropologici anche la saggezza e la ricchezza dei testi sacri e questo è un invito che io faccio naturalmente senza nessuna intenzione confessionale tutt'altro ma questo non significa cercare di coltivare la dimensione spirituale a partire dalle contraddizioni presenti nel nostro essere umani tentati costantemente dell'onnipotenza e invitati a percorrere una strada del lasciarci andare a ciò che accade con senso di responsabilità buona giornata a tutti grazie